Le buche di Roma sotto inchiesta della Corte dei Conti. Credo che sia una incapacità di governare questa città. I municipi potrebbero essere chiamati in causa per danno erariale. È giusto che chi ha avuto un danno abbia la sua retribuzione, però è anche giusto che il comune provveda a evitare che il danno ci sia. Chi non ha provveduto a vigilare alla messa in sicurezza dell'asfalto potrebbe essere costretto a risarcire gli automobilisti, motociclisti o cittadini vittime di incidenti. Ultimamente sono caduta due volte perché ho intruppato su un sanpietrino. L'obiettivo della Corte sarà di individuare le responsabilità di una manutenzione carente nei confronti di sindaci e mini-sindaci. L'unico problema che c'è è che dovrebbero fare una task force che lavora solamente sui problemi, ad esempio, della viabilità, incluso anche la riparazione del manto stradale. Se nella scelta di amministratori si fosse un po' più oculati, tenendo conto anche che per fare questo servizio occorre esperienza e non basta l'entusiasmo, forse sarebbe meglio.